Questo è un messaggio ET Alert, il sistema di allarme pubblico che una volta operativo invierà messaggi in tempo reale nelle aree interessate da gravi emergenze. Ora il governo italiano, attraverso la protezione civile, sta testando ET Alert. Quindi se ricevi un messaggio significa solo che sei in un'area test. Per fare la tua parte clicca sul messaggio, entra nel sito e compila il questionario. ET Alert, il sistema nazionale di allarme pubblico. È bene che tutti i cittadini siano informati di questa iniziativa che parte dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. È di fatto un test, una sperimentazione di quella che si chiama ET Alert, quindi un sistema di allertamento che dovrebbe essere operativo dal 2024. Non c'è una data definita, anche perché è un work in progress, si sta lavorando in questo senso. Infatti quello di martedì, 12, intorno alle ore 12, dalle 12 alle 1 dovrebbe essere, fisicamente cosa avverrà? Avverrà che i cellulari, i telefoni di tutti coloro che in quel momento si trovano nella regione Marche, quindi non solo i residenti, ma anche coloro che sono di passaggio o temporaneamente presenti sui nostri territori, tutti coloro che avranno il telefono acceso nella nostra regione Marche, in luoghi raggiungibili dalla rete, avranno un messaggio che è appunto una prova di allertamento. Poi ci sarà scritto anche che si può collegare a un sito, si può anche interagire, rispondere diciamo attraverso questo sito dando un giudizio su quello che diciamo è avvenuto, questo non è obbligatorio. Per far smettere il telefonino di suonare occorre aprire il messaggio, altrimenti continua diciamo il suono. Non deve allarmare nessuno, è una sperimentazione, non c'è nessuna emergenza, però è un test che sarà molto utile per mettere invece successivamente, probabilmente i primi mesi del prossimo anno, in funzione di questo sistema, che è un sistema di allertamento che non sostituisce i normali sistemi di allertamento di protezione civile presenti già nella nostra regione, ma si aggiunge, ovviamente interverrà solo nelle aree interessate da eventi particolarmente drammatici.